Se batti facile e fai questa posizione di difesa non serve un cazzo Non sul centro Differenza tra due colpi Cambio, punto, punto Siete di qua, avete fatto un punto E si cambia Vinci, la prima coppia è che raggiungi 5 Le gambe inalzate Questo ci sta a muro di difesa ragazzi Non potete tenere un cambio palla male Due su due, cambio Non serve a niente, non serve così però, così è inutile Vai cambio, 0 su 2, nessun punto Se non vedi col cappellino vuol dire che la tua fase di ricezione è sbagliatissima Vuol dire che sei troppo corta, che sei troppo alta e che hai la schiena indietro Quanto bene dopo corta Giocatevela vicina così ve la scizzate ancora di più il gioco Non ve l'aprite Subito La prima vicina a te Giulio, soprattutto se ce l'hai a sinistra Vai, fuori dalle palle Levatevi dal mio campo E devi bruciare l'adduttore Perché devi stare dritta per vedere bene Bruciare devi vedere l'adduttore Non lo puoi fare Perché se costa di andarci in terzo tempo vuol dire voltare il corpo E quindi non ce la fai a colpire la palla Posso andare? Certo Basta che non mi vieni addosso Vieni qua Sotto la palla Bianca ma cosa guardi il pallone? Guarda dove è messa Paola E stai bassa sulle gambe Cioè tu corri verso il pallone e fai questo E poi vai a calzare Ilaria se chiami super e bel rallentatore non chiamare super Lascia perdere Chiamo una bella palla alta così ci vai te Sotto il campo non serve a niente Due su due punto Sì Si chiami super e devi scattare per fare l'incorso Non guardare lei Lei lo sa cosa deve fare Sì perché non è la più pavida idea Ma non sono partito C'è Pio Cicca Ma non è giusto Ma che c'è Ma che c'è Ma che c'è Ma che c'è Ce l'hai giù lì E le sei andato addosso E non lo puoi più attaccare Dio di Dio Se li vieni addosso non puoi più attaccare di seconda E' molto semplice Quindi è inutile che puoi attaccare di seconda Non cadra mai Sei costretto ad alzare una volta che ripeto Devi stare ferma e ti allarghi lì e fare la rincorsa Allarghi e poi fare il cazzo che ti fa Due su due No Ah ok C'è da stare Cinque Almeno ho progresso Giulia la cinque la devi dare per forza piatta con le gambe Se non prende la rotazione appena tocca il pallone schizza via Visto che nessuno dei due riesce a prendere correttamente la mano per fasciare il pallone Certo Arriva arriva Dai Metti la veloce Dai Laria Devi staccare il piede da terra se vuoi staccare così il pallone Due con un tentativo Uno No Uno si attacca La uno palla morta No uno spacchi il pallone e quel che succede succede Brava Brava Bianchi Dattennete quello che si dice sempre Stacca sull'attacco di seconda Che così almeno non rompe neanche il cazzo a chi difende Primo tentativo andato Secondo tentativo Invasione l'aria rete Oh non così alta Piega le gambe e stai dritta Dalla una cinque vera che è a metà dell'asta Attacca il pallone Non devi voltarti in volo Eh no ragazzi secondo tentativo Eh certo Attacca sull'attacco in cosa Taglia sinistra Perché ti volti e fai le finezze che c'è la mano del porco Magari senza il nastro Così almeno l'unicorno la tocca Visto che è immobile Terzo tentativo Vai ancora Ok dovete fare questo per cacciarle Ma ci sta da anche che le stufi nell'angolo e tu non ci faccia voltarti Poi l'aria il centro del campo deve lasciar perdere Si continua ad attaccare Voltando il corpo in volo Non attacca i secondi Non fa per te Zero due Già uno due ancora Quinto tentativo Uno Sesto tentativo Sesto tentativo andato Potenzialmente per sempre Potenzialmente per sempre Sesto tentativo Settimo tentativo È un formaggio Il brì però è piaciuto Il brì Mi è piaciuto da morire Con questo brì Mi è piaciuto Ok Ok Tocca a noi Se lo fate subito avete vinto Ilaria e Nicole Aspetta Perché poi finito il tempo No perché lo farebbero con zero tentativi E quindi voi ne avete fatto uno per raggiungere due Ah perché io pensavo che fosse Che più arrivare a 5 Che facevi alla fine No no Mare e le Giulie sono automaticamente fuori Vai Se le tirate fuori subito siete voi Se arrivate voi seconde Posto Stop Quello siete Quello siete Ve Quello